Ho raccontato la mia storia, ora mi fermerò un po'. Con gli occhi ben aperti chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere. Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia. Siamo tutti dentro la storia, tardi o presto, ma io sono qui. E adesso sono stati tutti molto bravi questi cantanti, sono stati forti, ma io ne conosco uno più forte, io. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. E grazie. Grazie Antonio. Beh io volevo convincerti sinceramente con la mia grandissima voce. Grande mia. Adesso che sai. Luca che devo fare? Grandissima voce. Devo chiedere. Potresti chiedere, grazie. Luca posso? Sarebbe bellissimo. Non manco per niente. Ma come per niente? Ma proprio per niente. Luca è babbo mio, non lo sapevate, ma siamo padre e figli da tanto tempo. È un piacere, Luca. Molto lieto di conoscere. Grazie. Bravo. Questa mattina la vedo a uno mattina. Complimenti. Complimenti. Complimenti, grazie. Siamo padre e figli.